Ben ritrovati su Sicilia 24, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo dal Siracusano dove un imprenditore è finito agli arresti domiciliari. L'uomo infatti talvolta insieme al figlio conferiva rifiuti in discariche abusive della provincia retusea. Il servizio. Nonostante destinatari di un'interdittiva di tre mesi dall'esercizio dell'attività di impresa, padre e figlio titolari di una ditta iscritta all'albo dei gestori ambientali avrebbero continuato a trasferire e conferire illegalmente rifiuti in discariche non autorizzate. E questa l'accusa contestata dalla procura di Siracusa ai due imprenditori nei cui confronti la guardia di finanza ha notificato un'ordinanza cautelare che ha aggravato le misure precedenti disponendo gli arresti domiciliari per il padre e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il figlio. Secondo l'accusa i due avrebbero trasportato e conferito illecitamente materiale di vario genere in diversi terreni della provincia retusea. Le fiamme gialle hanno scoperto che un imprenditore siracusano, coadiuvato talvolta anche dal figlio, avrebbe agito secondo un consolidato modus operandi, deposito di un cassone vuoto presso diversi committenti per poi procedere al successivo ritiro. Trasporto in discariche non autorizzate, sversamento e incendio dei rifiuti generando un grave pericolo per l'ambiente e per la salute dei cittadini. Come detto il GIP su una nuova richiesta della procura ha aggravato le misure cautelare nei confronti dei due indagati. A Castellammare del Golfo invece nella Trapanese un 35enne è stato beccato e denunciato dai carabinieri per una serie di furti ma anche per l'indebito utilizzo di una carta di credito. I carabinieri di Castellammare del Golfo hanno denunciato un pregiudicato del posto per una serie di furti che avrebbe messo a segno negli ultimi giorni e anche per l'indebito utilizzo di una carta Bancomat. Da un'indagine intrapresa dai militari dell'arma di Castellammare sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza sul 35enne in merito ad una serie di furti su autovetture denunciati negli ultimi giorni da cittadini del posto. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri tramite la visione di immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e dall'escussione di alcuni testimoni, l'uomo sarebbe il presunto responsabile di un furto su autovettura di una carta Bancomat che avrebbe utilizzato dopo per prelevare la somma di 250 euro presso uno sportello ATM del centro cittadino. Inoltre di un furto su autovettura della somma di 100 euro in contanti e del furto di un'auto avvenuto il 23 aprile scorso, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese e riconsegnata dai carabinieri alla denunciante. Restiamo nel Trapanese, ci spostiamo però a Mazzara del Vallo dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un 49enne il quale guidava senza patente ed era anche in possesso di un coltello. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo con il supporto dei colleghi del XII Regimento Sicilia hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere un pregiudicato castelvetranese classe 74. I militari dell'arma intenti ad eseguire un posto di blocco nel quartiere di Mazzara 2 hanno intimato l'alt al 49enne che in auto con un passeggero e sprovvisto di patente e di guida non si sarebbe fermato dandosi a precipitosa fuga per le vie cittadine. Dopo averlo bloccato i carabinieri hanno eseguito una prequisizione personale e veicolare trovando l'uomo in possesso di un coltello a serramanico e il passeggero un pregiudicato di 42 anni in possesso di un coltello a serramanico e un coltello a farfalla. I carabinieri hanno proceduto all'arresto del 49enne che a seguito dell'udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e alla denuncia del passeggero per porto ingiustificato di armi o d'oggetti atti ad offendere. Ad Adrano nel Catanese un giovane di 17 anni o minorenne che guidava ovviamente senza patente ha costretto due equipaggi della Polizia di Stato a un lungo inseguimento. Alla fine il ragazzo è stato bloccato, denunciato e sanzionato. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 17 anni che ha costretto due equipaggi del commissariato di Adrano a un lungo e impegnativo inseguimento iniziato sulla strada statale 284 Bronte Adrano e conclusosi alle porte di Biancavilla. Nel corso dei servizi di controllo del territorio in orario notturno un equipaggio del predetto commissariato ha tentato di fermare un'autovettura il cui guidatore aveva un atteggiamento sospetto. Quest'ultimo vistosi avvicinare dall'equipaggio della Polizia ha deciso di fuggire a folle velocità. I poliziotti, immediatamente posti al suo inseguimento percorrendo la strada statale 284 in direzione di Adrano, hanno chiesto l'ausilio di un altro equipaggio. Il minorenne percorreva le vie principali di Adrano a velocità sostenuta sino a quando i due equipaggi sono riusciti a bloccarlo. Il minore, oltre a essere stato sanzionato ovviamente per guida senza patente, è stato altresì oggetto di contestazione per non aver ottemperato all'alp di polizia per aver sorpassato in curva e per la velocità non commisurata a un centro abitato. L'importo complessivo delle sanzioni irrogate ammonta a oltre 5.000 euro. Torniamo nel siracusano e continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Siracusa principale hanno arrestato un 23enne del luogo in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Il giovane, già condannato per diversi furti commessi nel 2020, era stato affidato in prova ai servizi sociali ma le ripetute violazioni della misura prontamente comunicate dai carabinieri all'autorità giudiziaria hanno portato all'emissione dell'ordinanza di aggravamento. Pertanto, dopo le formalità di rito, il 23enne è stato associato al carcere Cavadonna di Siracusa. Ed ora nella Palermitano a Capaci, dove due soggetti sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere evasi dai domiciliari, si sono recati presso una stazione di servizio per compiere un furto. I carabinieri della compagnia di Carini hanno arrestato due persone di 33 e 30 anni con l'accusa di evasione e furto aggravato. Un servizio di controllo alla circolazione stradale sulla statale 113 è stata l'occasione per i carabinieri allertati in relazione a un furto in atto presso un'area di servizio nel comune di Capaci per intervenire prontamente e intercettare i due malfattori in fuga a bordo di un'autovettura risultata a provento di furto, i quali, dopo aver avvivelto la porta a vetri esterna dell'esercizio utilizzando un blocco di cemento, sono riusciti a introdursi ad asportare 351 pacchi di sigarette e 4 gratte e vinci per un valore complessivo superiore ai 2000 euro. Dopo un breve inseguimento, i rei, evasi dagli arresti domiciliari cui erano già sottoposti per reato analogo, sono stati fermati in condizioni di sicurezza e l'immediata perquisizione ha consentito di recuperare e restituire al legittimo proprietario l'intera refurtiva. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che ha nuovamente disposto per entrambi l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Parliamo adesso delle attività svolte nel Siracusano dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro soprattutto per contrastare il caporalato. Vediamo il servizio. Nelle recente periodo numerose sono state le attività condotte dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro nella provincia di Siracusa a tutela dei lavoratori. Nel comune di Francofonte ad esempio sono stati eseguiti dei decreti di perquisizione nei confronti di 24 persone tra cui 8, due titolari d'azienda e 6 caporali, ritenute responsabili a vario titolo in concorso tra loro di sfruttamento del lavoro ai danni di 27 lavoratori di cui ben 16 percepivano indebitamente anche il reddito di cittadinanza anch'essi indagati. All'inizio del 2023 è stata data esecuzione a una misura di controllo giudiziario di azienda nei confronti di una società con sede legale a Palermo che ha in gestione i servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento del 118 all'interno dell'ambito territoriale della regione Sicilia contestando a due indagati inseriti nell'ambito societario lo sfruttamento dei lavoratori e la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro poiché in concorso tra loro impiegavano gli autisti soccorritori circa 200 dipendenti solo nella provincia di Siracusa sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno intimidendoli con la contestazione strumentale di leciti disciplinari in occasione delle segnalazioni di guasti alle ambulanze instillando la paura di trasferimenti presso sedi di lavoro disagiate obbligando loro a prestare servizio su autoambulanze prive dei presidi minimi essenziali per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Oltre alle predette attività il NIL di Siracusa continua la costante azione di controllo delle attività lavorative della provincia e nelle ultime settimane ha effettuato un accesso ispettivo in un locale della movida siracusana riscontrando 13 lavoratori nero su 18 dipendenti e tra questi un extra comunitario clandestino in quanto privo di permesso di soggiorno. La stessa azienda aveva inoltre installato un impianto di videosorveglianza privo della prevista autorizzazione, pertanto al legale rappresentante è stato notificato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale con sanzioni per un importo complessivo superiore ai 58 mila euro. I controlli dei militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro proseguono senza sosta per prevenire il ricorso a mano d'opera occupata in violazione di legge e contrastare gli infortuni sul lavoro. Parliamo di calcio con il Palermo che frena ancora stavolta 1-1 sul campo del Como, la zona playoff resta comunque a un passo a fine partita, hanno parlato i protagonisti ovvero il mister Eugenio Corini ma anche l'autore del gol del Palermo Alessio Buttaro. Sentiamo le loro dichiarazioni. E' difficile commentare sempre. Io penso che è stata una prestazione veramente fatta bene, di coraggio, di personalità. La squadra ha sempre provato a fare gol. Veritavamo secondo me di vincerla, anche nel momento che abbiamo avuto situazioni per fare il secondo gol. Poi il calcio di rigore l'avete visto, non c'era una situazione dove è stato bravo l'avversario interporsi a Marco Sala quando la palla ormai non era più nella loro disponibilità. Hanno fatto il pareggio, la squadra l'ha provato fino alla fine a fare gol e lo meritavamo. E' un punto, però in queste tre partite secondo me può ancora nascere la possibilità di fare qualcosa di importante. Adesso dobbiamo cercare sicuramente di battere la spalla perché lo meritano i tifosi che anche oggi ci hanno seguito qua, che ci credono. Lo meritano i giocatori, lo meritano la società, lo meritiamo tutti e dobbiamo fare quella virgola in più che spesso vi ho parlato, che nonostante prestazioni importanti non riusciamo a fare i tre punti, ma proprio in questo momento è da crederci ancora di più e cercare di fare una grande settimana che ci porti a battere poi la spalla. Il nostro percorso di crescita che sicuramente non è ancora ultimato, ma facciamo percepire cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare. È un lavoro che va sviluppato, abbiamo alzato il target due mesi fa, rispetto a quello che era l'obiettivo che ci era stato chiesto, per vedere anche i giocatori, il livello che dovevano sostenere per ambire a giocare in una piazza importante come Palermo, secondo me a livello prestativo la squadra ha sempre risposto. Purtroppo questo pizzico di sfortuna che ci ha accompagnato non ci ha permesso di vincere probabilmente due partite in più che avrebbero svoltato la nostra classifica, ma ce ne sono ancora tre da giocare, finché, dico spesso, la palla rotola ci dobbiamo credere e cercare di vincere la prossima. Penso che Butteropi ha fatto una grande partita, nel senso che ha fatto il gol, ha avuto due occasioni molto importanti. Io le ambizioni di Palermo le conosco bene, la spinta che la tifoseria ci dà, come ho detto anche oggi sono venuto qua, e abbiamo la piena percezione. Chiedo un attimo di pazienza, la devo avere anch'io, perché il percorso è lungo. Noi abbiamo alzato il target, nonostante non ci fosse stato chiesto, perché so cosa vuol dire allenare a Palermo, so le ambizioni della tifoseria, facciamo il massimo per essere all'altezza di questo. Questo campionato deve ancora finire e noi speriamo in queste tre partite di andare a prenderci con le vittorie che ci mancano tanto e che ancora mancano anche i tifosi, ma sono sicuro anche che apprezzano lo spirito della squadra, la crescita della squadra, nonostante qualche vittoria purtroppo non è arrivata. Sono contento perché sono entrato con la spinta giusta e ho cercato di fare quello che il mister mi chiedeva e sono contento per il gol. Ho cercato di spingere molto per provare a fare il taglio alle spalle della linea e devo dire che ha portato i suoi frutti. L'avevamo provata così e ho soltanto fatto quello che insomma volevamo insieme a tutta la squadra. Ogni partita partiamo sempre con la spinta per vincerla, poi può avvenire o meno, ma l'importante è dare tutto e uscire dal campo soddisfatti di quello che abbiamo provato. Forse magari mancava quella spinta in più su alcune occasioni, anche da parte mia ho avuto due occasioni, non solo il gol, magari potrebbe essere un po' più lucido, però comunque ho visto una squadra vogliosa, molto grintosa di portare a casa i tre punti. di voi può venire o non venire, l'importante è darlo. È tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia24. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.